Il 29 è stato duro, durissimo, eravamo milioni e milioni alla deriva in America in cerca di lavoro. Nel boom degli anni venti avevamo tutti degli eroi. C'era Lindbergh, l'aviatore falle che per primo sorvolò l'Atlantico e Bebrut, campione di baseball. E Gertrude Everly, un tremendo donnone con spalle da gladiatore che si spalmava di grasso e attraversava a noto la manica. E poi c'era il mito di tuo padre. Così stupidi! Così stupidi siamo stati! Perché? Avevi costruito un lavoro che andava bene. Un futuro per tutti e tre. E adesso rischiamo tutti di finire in mezzo a una strada. Con tutti i soldi che abbiamo tenuto nelle loro banche per così tanti anni. Imbecilli! Deficienti totali! Incapaci! Rose, i giornali oggi hanno scritto che... I giornali? Tu credi ancora nei giornali? Lo sai, a che cosa credo io? Nel bagno. Raia! 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 Caro papà! Dio mamma che sto bene! Ho un lavoro! Non mi pagano ma mi danno da mangiare e da dormire. Credo che in questa crisi ci siamo cacciati perché da almeno tre decenni viviamo tutti chi più chi meno al di sopra dei nostri mezzi. Se non sai che succede. Succede che un giorno o l'altro scoppia una bella rivoluzione si sente nell'aria e se così sarà io ci voglio essere! Grazie! Grazie!